Un torneo dell'amicizia nella settimana contro il razzismo. Protagonisti al campo sportivo di Pescara, gli alunni della scuola media Foscolo del Comprensivo 1. Educare i più giovani alla condivisione di valori come l'inclusione e il rispetto. Questo è l'obiettivo del progetto che è stato realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport e della Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme a Calcio Sociale Abruzzo. L'evento è stato organizzato dall'Endas Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara. Grazie al torneo dedicato all'amicizia possiamo ricordare quanto sia importante la lotta contro il razzismo. In questa settimana dedicata appunto a lei. Oggi abbiamo la possibilità di vedere uno spettacolo fantastico. Tantissimi bambini che non sanno neanche il significato di questa parola. E il mio augurio è quella che scompaia per sempre nel nostro vocabolario. Dobbiamo sempre ricordare che nasciamo tutti liberi, tutti uguali, con pari dignità, con pari diritti e ognuno di noi ha il dovere di contribuire al benessere ma soprattutto allo sviluppo della nostra società. Tra gli intervenuti durante il torneo, oltre al sindaco di Pescara, anche il dirigente sportivo Enzo Melatti. Molto apprezzate e significative le parole del generale Domenico Trozzi, per vent'anni dirigente del reparto volo della Polizia di Stato a Palermo, che ha parlato di legalità ai giovani atleti, ricordando il suo rapporto con Giovanni Falcone ed altre vittime della mafia come il suo amico Ninika Sarà, vice dirigente della squadra mobile ucciso da un commando di sicari armati di Kalashnikov. Questo progetto si chiama appunto Calcio Sociale in Abruzzo proprio perché vogliamo che non ci sia un vincitore e un vinto, ma che tutti quanti possano dimostrare che è possibile giocare a calcio e divertirsi tutti insieme. Tra l'altro questo campo è ospitato da un quartiere particolare della città di Pescara, quindi c'è un'integrazione sociale doppia se pensiamo che siamo all'interno del quartiere Villa del Fuoco.